siete sicuri di dormire bene seguitemi dormire è una necessità ma dormire bene è una vera fortuna se ciò non accade il risveglio può essere traumatico la giornata diventa pesante e la qualità della vita peggiora ma migliorare il proprio riposo si può con un nuovo materasso evergreen il nostro corpo ha bisogno di un supporto che gli consenta di potersi riposare in maniera rilassata in modo tale da alzarsi la mattina completamente rigenerato ognuno di noi è differente e un normale materasso di tipo tradizionale normalmente non è la scelta migliore vediamo quindi in cosa si differenzia un prodotto di alta qualità nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo sofisticati software ci permettono di studiare la pressione del corpo umano e i suoi punti di appoggio durante il sonno queste informazioni sono la base per la realizzazione di materassi capaci di distribuire i pesi ed adeguarsi alle naturali curvature del corpo del corpo Grazie.